Faccio box da circa tre anni, ho avuto una breve esperienza nell'agonismo perché volevo competere con i miei limiti. La palestra dove faccio box per me è un ambiente dall'atmosfera veramente amichevole, mi fa star bene, mi dà un luogo dove ritrovare me stesso. Quello che mi piace di più di questi allenamenti è quando si fa sparring, quindi si scambiano i guanti con i propri compagni, è una valvola di sfogo dallo stress della vita di tutti i giorni. Grazie.